Ciao a tutti e ben trovati in questo nuovo video. Io sono Davide Brugnoni. Oggi andiamo a vedere come gestire la scalabilità orizzontale e verticale attraverso Jelastic Cloud di Aruba. Quando si ospita un'applicazione di qualunque genere su uno o più server, ci si pone sempre una domanda fondamentale, ovvero come andare a dimensionare un'infrastruttura in grado di andare a gestire correttamente gli elevati volumi di traffico, più o meno previsti. Ad esempio un amministratore di un sito e-commerce saprà sicuramente che durante l'anno ci saranno alcuni aumenti di traffico improvvisi, come ad esempio il periodo del Black Friday o il periodo dei saldi. Molti gestori di alcuni siti web cercano di dimensionare le risorse in modo molto generoso, stimando un eventuale picco di traffico che può verificarsi in un determinato periodo. Questo tipo di attività però farà pagare inutilmente un servizio che sarà utile solamente in determinati periodi. Ed ecco per l'appunto che interviene la scalabilità automatica. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa significa. Il concetto è chiaramente espresso nell'immagine che vi metterò in sovraimpressione. Nella configurazione di sinistra, l'ipotetico utente sta pagando l'importo massimo per le risorse che ha richiesto, ma senza mai neanche lontanamente utilizzarle al massimo delle loro potenzialità. L'utente di destra, che invece sta utilizzando il Gelastic Cloud di Aruba, si limita a pagare solo le risorse effettivamente impegnate, con la possibilità quindi di andare a limitare gli investimenti economici e versare importi maggiori solo quando il traffico dovesse aumentare e naturalmente il business ampliarsi. Si tratta del modello Pay Per Use. Una configurazione cloud scalabile fa sì quindi che le risorse possono adattarsi in tempo reale al traffico gestito e alle necessità degli utenti. Già il fatto di poter aumentare o diminuire al bisogno le risorse computazionali è un qualcosa di straordinario. Un server fisico, ad esempio, resta tale fino a quando non viene aggiornato a livello hardware con un altro più prestante. Gelastic Cloud, invece, fornisce agli utenti tutti quanti gli strumenti necessari per andare ad ampliare le risorse computazionali al bisogno. Quando, appunto, la nostra applicazione comincia a essere più esigente. Gelastic Cloud di Aruba non offre soltanto la possibilità di scalare le risorse, ma anche quella di utilizzare uno scaling verticale o d'orizzontale in modo completamente automatico. Adesso andiamo a vedere nello specifico come funziona lo scaling verticale. Il meccanismo di scaling verticale di Gelastic Cloud di Aruba permette di scalare in automatico le risorse verso l'alto o verso il basso in base all'esigenza dell'applicazione. Se l'applicazione necessita di risorse più elevate, aumenteranno in modo automatico le risorse impegnate. Al contrario, invece, se il traffico comincerà a scendere, le risorse diminuiranno di conseguenza, sempre in modo automatico. Questa soluzione permette di erogare un'applicazione o un servizio senza che vengano rilevati rallentamenti o, ancor peggio, situazioni di irraggiungibilità. Le risorse utilizzate sono organizzate sotto forma di Cloudlet. Più o meno equivalgono l'una a 128 MB di memoria RAM e una CPU single core da 400 MHz. Quando si crea un ambiente in Gelastic Cloud, la piattaforma provvede ad assegnare un certo numero di Cloudlet per l'utilizzo ottimale dei componenti software configurati. Creando un cluster WordPress, ad esempio, e andando su Change Environment Topology, l'interfaccia di Gelastic Cloud mostra i Cloudlet riservati e Cloudlet eventualmente impegnabili per le attività di scaling. Nel riquadro Reserved, Gelastic Cloud riporta il numero di Cloudlet che l'ambiente occuperà. Per queste risorse che sono appunto riservate, l'utente pagherà, versando però un importo inferiore rispetto a tutte quelle attività svolte in maniera dinamica. Nel riquadro Scaling Limit è riportato il numero di Cloudlet delle quali l'applicazione può eventualmente fare uso. L'uso di queste risorse viene addebitato solo nel caso di effettivo utilizzo, con un limite superiore che non viene mai superato. Quindi sarà possibile andare a modificare questi Cloudlet semplicemente andando su queste freccette per la zona riservata e sempre sulle stesse frecce per la zona di Scaling Limit. Adesso andiamo a vedere la scalabilità orizzontale, manuale ed automatica. In aggiunta alle possibilità di Scaling Verticale, Gelastic Cloud permette di aumentare o di diminuire, in modo automatico o manuale, il numero di server utilizzati nell'ambiente configurato sul Cloud. Andando sempre su Change Environment Topology, possiamo vedere la sezione di scalabilità orizzontale. In questo riquadro si ha la possibilità di regolare manualmente il numero di nodi da utilizzare, gestendoli con un approccio stateless o stateful. Nel primo caso, tutti i nuovi nodi vengono creati contemporaneamente, a partire dal template usato come base. Nel secondo, invece, è il file system del container master ad essere copiato all'interno dei nuovi nodi. Lo schema stateless è notevolmente più veloce rispetto allo stateful, ma non si adatta alle personalizzazioni che vengono applicate all'ambiente da parte degli utenti. Il consiglio è quello di scegliere lo scaling orizzontale stateful, per il bilanciamento del carico, per l'application server e per lo stack VPS. Tramite questo pannello si ha non soltanto la possibilità di modificare le modalità di scaling, ma anche di ottenere una stima di quanto si spenderà su base oraria, giornaliera e mensile, per ospitare ed eseguire la propria applicazione sul Cloud. L'importo indicato qui a sinistra indica l'importo minimo che si dovrà a pagare per le risorse riservate, mentre questo qui di destra indica la spesa massima nel caso in cui si impiegassero tutte le risorse, naturalmente in caso di scaling verso l'alto. Gelastic Cloud consente di scalare le risorse anche in orizzontale, in maniera del tutto automatizzata. Come avviene anche per la scalabilità verticale, la piattaforma può aumentare ed diminuire il numero di nodi in uso, in base ai carichi di lavori istantanei. Lo scaling in orizzontale viene gestito con l'ausilio dei cosiddetti tunable trigger, condizioni personalizzabili dall'utente che permettono di definire quando è opportuno aggiungere nodi o rimuoverli. Si può andare a configurare i trigger da usare per la scalabilità orizzontale cliccando nell'icona setting, cliccando poi su Monitoring e su Auto Horizontal Scaling. Cliccando semplicemente qui su Add si possono aggiungere nuovi trigger. Nell'esempio indicato qui si concede a Gelastic Cloud l'autorizzazione a raggiungere il numero massimo di nodi specificato, se necessario al ritmo di un nodo ogni 5 minuti, quando la percentuale di utilizzo del cluster dovesse superare l'80% in termini di carico sulla CPU virtuale. E viceversa si chiede a Gelastic Cloud di scalare progressivamente verso il basso al decrescere del carico di lavoro. Sempre facendo riferimento alla colonna di sinistra delle impostazioni, cliccando su Events History e scegliendo Horizontal Scaling, si può verificare quando Gelastic Cloud si è attivato per aggiungere o rimuovere nodi dalla configurazione in uso. Indipendentemente dai servizi cloud attivi sulla piattaforma, cliccando sull'icona Statistics, si può accedere a un potente strumento di monitoraggio in tempo reale, che consente di avere un quadro completo sullo stato di ciascun cluster e sulle risorse impegnate in termini di RAM, CPU, traffico in ingresso e in uscita sulla rete e operazioni di scrittura sul disco. Grazie alla piattaforma Gelastic Cloud di Aruba è possibile andare a creare diverse configurazioni più o meno complesse, che utilizzando un approccio tradizionale porterebbero a spese nettamente maggiori e continue manutenzioni sui server. Ok, anche per questo video siamo giunti al termine, vi lascerò come sempre tutti quanti i riferimenti in descrizione. Un saluto a tutti voi da Davide Brugnoni